Il secondo concorrente di questo pomeriggio è Pieratelli Michele, di nazionalità italiana e cittadinanza italiana di anni 23, che eseguirà nell'ordine Bach, grave fuga dalla seconda sonata in La minore, Mozart, il concerto in La maggiore KV219, primo movimento e cadenza di Josef Joachim, di Sivori, lo studio Capriccio numero 2 per violino solo dai 12 studi Capricci, opera 25, revisione di Fulvio Luciani, e di Lipitzer, dallo studio numero 18, variazioni ad libitum, allegro sostenuto e allegro dalla tecnica superiore del violino con arcate e ditteggiatore originali. Sarà accompagnato da una pianista ufficiale del concorso, Mizuhu Furukumo. Sarà accompagnato da una pianista ufficiale del concorrente, 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.